la tomba del mondo è nelle profondità della loro sortezza secondo lo spettro che abbiamo trovato c'è un antico cavaliere che protegge ci possiamo andare ma dovrai affrontarlo per accedere alla tomba una nuova arma secondaria da provare amore stai zitto è morto è morto è morto è morto non è velo le non il non si non se non ma oh shiii Un po' cazzo. Ma il nostro video è sempre semplice. Dimmi addio. Cretino. Poco. Un po' il paesaggio. Cretino. 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 Il. Cretino. No. Una Maliarza. Mamma mia che lancio. Un po'. Amore. Il. 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 Cos'è? No, io odio Guarda Solo colpo Vieni Le risorse Guarda che bello Sì, uì, frate Guarda che c'è Guarda che cose Sì Il cavaliere di C è potente e non è solo Bene Ma questo cavaliere è la chiave per trovare la tomba, dobbiamo distruggerlo Io non posso più morire, sennò ricomincio da qua Mamma mia Noi 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 No 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 ora facciamo mamma mia rottura di coglioni potente c'è un po' da fare dovrebbe condurci i diritti alla tomba la tomba del mondo, non la nostra ah, capite? no la tomba del mondo in giro alveare nooo no potente no 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 att oh no oh no oh no Sì 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 Che angosccia Sì A tu rire Grazie a tutti. 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 Pantulo. 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 Pantulo.